Qui abbiamo un ex borgo contadino, un borgo contadino settegentesco trasformato in un albergo diffuso con 32 antiche case coloniche ovviamente restaurate con i principi della bioarchitettura il suo nome è, puntini di sospensione, un indirizzo di charma all'interno della si può dire, della tenuta di San Giacomo e Filippo un'azienda agricola biologica e l'osifamistica della Badia nelle Marche, non in alto agio è circondato da oliveti, biglie e campi di lavanda in mezzo a questo trepudo mediterraneo è risorto a un giardino botanico ricco di piante rare una piscina esterna, un'organic bar dove costare centrifughe frullate di frutta biologica il ristorante naturalmente offre piatti di territorio i quali sono preparati con materie prime che provengono dall'azienda agricola e questo resort, cominciamo ad anticipare, è ricavato nell'antico finile mentre il centro benessere si apre con ampi vetrate sulle colline del Monte Feutro la regione ormai l'avete già presupposta e comunque all'interno della tenuta la proprietaria Marianna Bruscoli produce anche un ottimo vino biologico il vincitore del Green Travel Award 2015 per la categoria Villaggi Eco è Urbino Resort